Per me lo studio è un po' come un ristore, un po' come qualcosa dove lasciarsi andare al libero pensiero attivo, una palestra cognitiva dove bisogna permettersi e regalarsi il lusso di fermarsi. Poi lo studio non è sinonimo di arte, lo studio è sinonimo anche di tante altre cose, cioè ognuno secondo me ha bisogno del suo spazio di lavoro e anche del suo luogo mentale, un luogo dove creare la contemplazione, non tanto dove attenderla e si crea la meditazione e anche si riesce a creare un isolamento sano da dove si generano le azioni che danno corpo alla forma. In questo contesto di lavoro dove sono io adesso ho in me tanti ricordi passati che vivono attraverso delle immagini sensoriali e mnemoniche. La mia ricerca fino a qualche mese fa era completamente diversa da quella che è ora. Il 2 luglio è venuto a mancare mio padre, questa cosa mi ha permesso di avere una sorta di crisi della presenza, termine cognato da Néstor Martino che è un antropologo, che ha proprio detto che lo stato di spaesamento ha determinato quelle che sono un po' le crisi, crisi però non vuol dire negatività o positività, aspetta a noi scegliere cosa diventare e così da questo mio avvenimento ho avuto la mia crisi della presenza e ho completamente cambiato il mio modo di fare artista, prima c'era una ricerca che si chiamava antiforma, una ricerca che viveva di anticonotazioni, era priva di definizioni, priva di qualsiasi luogo dove potersi identificare. Nonostante ciò riusciva allo stesso tempo ad attaccarsi a dei concetti che prendevano corpo in base al mio stato d'animo e anche agli spazi in cui vivevo. Quando noi definiamo una cosa, quest'ultima si ci sfugge, cioè nel senso, anche nelle relazioni umane, nei comportamenti che noi abbiamo con il prossimo, più noi definiamo le cose che ci circondano più queste non le comprendiamo, cioè se definisco me stesso è come se avesse già raggiunto la parola alla fine. La ricerca che porto avanti adesso si basa molto sulla snaturazione, su tutto ciò che l'uomo ha snaturato e che sta snaturando, ad esempio i parchi, perché ci sono dei parchi, perché agliettano il nostro senso di colpa. E così ho voluto in qualche modo esercitare l'ultima mia ricerca, l'ultima mia fase di lavoro, alla quale manca ancora un titolo definito. Quest'antiforma si è voluta e si è resa disponibile a prendere una definizione latente, una definizione non ancora accolta. Perché in questo momento, dopo quello che mi è successo, ho deciso di buttare via tantissimo quello che ho fatto, vedo tantissima maturità, tanta influenza esterna, non mia. Sono riuscito in qualche modo anche a cognare una sorta di formula per fare le opere, che consiste in due semplici somme, peso più forma più superficie. Il peso è la realtà, il peso è quello che ci circonda, quello che noi tocchiamo con mano e che noi abbiamo addosso anche volendo e che noi respiriamo. La superficie è il corpo con la quale noi interagiamo, come i fotografi con la mac fotografica, come con le tele, con la scultura, mentre la forma è l'io. La forma è l'identità che esercita una pressione sulla superficie, quest'ultima, a corpo con il peso, da forma all'opera che io esercito in quel momento. Questa è la sua mia ricerca che però verte molto verso quelle che sono le azioni ecosostenibili, quelle che sono tutte quelle realtà che girano attorno anche la salvaguardia di un qualcosa, non tanto, non solamente della natura. Io lavoro principalmente con materiali di scarto, anche per le tele, la maggior parte delle tele che ho qui sono per lo più scarti di altre, ovviamente sono comprate per carità, però io cerco di esercitare il maggior numero di materiali nell'ambiente che uso per evitare che questo ultimo vada a inquinarlo. Quindi scarto, materiali grezzi, mi piace giocare con le loro identità come se fossero mie, ad esempio una tavola in legno, cioè sarebbe un'ottima tela, un tavolo in marmo, una tavola di marmo, una tavola di traverti, non c'è nel senso, vedo le forme che vengono scartate come una sorta di estetica dell'abbandono, no? E in queste estetiche ci sono una serie di cose stupende e memorie tattili che vengono esercitate dal passato, al futuro, in maniera molto inconscia. E così mi piace giocare con materiali di scarto, che hanno già in sé un'azione attiva nel loro essere, che è quella di raccogliere memorie. E poi io mi divido tra pittura e scultura, ma non mi ritengo né pittore né scultore. Mi piace dare vita alla mia forma nel corpo in cui essa meglio si trova. Però l'antiforma ha saputo essere la mia migliore amica in quei momenti bui in cui non esercitavo creatività in quello che facevo. È stato un po' un espediente, un po' come una soluzione elgebrica che da corpo ha la mia creazione di esistere. Cos'è per me la responsabilità? La responsabilità è una chiamata all'ordine, non tanto come un obbligo ma come una sorta di consapevolezza, perché come artista mi rendo consapevole di poter comunicare in una maniera differente. Grazie a questa mia responsabilità che mi prendo, perché me la prendo tutta, posso dire e dare l'opportunità ai corpi di esistere. E quindi ho la responsabilità di fare delle cose, ho la responsabilità di dire delle cose e di raccogliere, di percepirle dallo spazio in mezzo e costante, calcando spesso e volentieri la mano verso quelle che sono le mancanze dove c'è la mancata bontà. Perché credo che la forza tra le forze sia la bontà di esercitare una responsabilità comprensibile e consapevole di cosa stiamo facendo nel nostro mondo. Non tanto del mondo, ma anche della nostra personalità, nostra identità. Siamo continuamente minati, bombardati da negatività. Ecco, io vivo un rapporto strano con il nutrimento e questo fa parte tantissimo della mia ricerca, perché io sono continuamente costretto a nutrirmi, in più e più modi, perché io sono diciamo nato senza leptina. La leptina è una sostanza che permette al nostro corpo di sentire la sazietà. Cioè io posso mangiare quanto voglio senza mai sentirmi sazio. Però questa cosa qua ha effetti colaterali, perché ti porta mentalmente a sentire lo stato puro dell'ossessione, perché sei costretto a vivere tutti i giorni con una dipendenza delle dipendenze, cioè la fame. Cosa succede? Succede che praticamente questa mia problematica mi ha portato a vivere delle esperienze assurde. Difficilmente dormo, ma anche adesso faccio fatica a dormire, ma sono riuscito a trovare una mia armonia, una mia sintesi, protratta verso l'iperattività, perché sono pareco iperattivo, però grazie a questi espedienti riesco a stare sereno durante la mia giornata. Sì, comunque io sento sempre la fame. Non sono mai sazio. Ci sono cinque casi in tutta Italia di questa cosa, due dei quali non li sento più, non so se sono ancora vivi, perché comunque la malattia è abbastanza, cioè non è neanche la malattia da mancanza. E tornando a quello che è la mia ricerca, la forma, l'antiforma è nata così. L'antiforma è nata per arti terapia, perché tempo fa, grazie all'artista che lavora appunto di questo, sono riuscito a trovare il mio nutrimento. Mi disse, ti do da fare questa metodologia che tipicamente uso con ragazzi che hanno la sindrome di Down. Io ho detto, guarda, niente da perdere. Chiedo, scusa se sono lungo, ma sono tutte cose che sono importanti perché fanno parte della mia ricerca tutti i giorni. Mi disse proprio, ok, quando tu hai lo stimolo, fermati, disegna la prima cosa che vedi e rifallo 10-4 mille volte. Così ogni qualvolta io avevo fame, dai 18 ai 22 anni, ho disegnato tutto quello che vedevo in maniera imperialista, in maniera quasi certosina. Ho carpette e carpette di disegni miei su un insolaio che raccogono tutto quello che ho disegnato. col tempo ho dovuto accelerare, ho voluto assimilare sempre più informazioni e sono arrivato a disegnare questo simbolo qua, che è l'antiforma. A forza di sintetizzare, 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 sono arrivato al simbolo. È il simbolo, è quello che ho detto prima, che è anticonico, antidefinito, non vive di definizioni, ama goderle tutte, ama poter essere tutto e niente allo stesso tempo. Quindi io vivo il nutrimento in maniera molto personale. Io ho bisogno sempre e continuamente di attività visiva attorno a me e mentali, tali da colmare questo mio vuoto perpetuo. Anzi, sono contento che si ridicano queste cose così fanno capire un po' anche quella che è tutta la mia nascita come artista, perché io nasco per un'esigenza, non tanto per un bisogno. Tento continuamente, ha presente quello stato di leggerezza che si vive quando si è seduti a un bar, si osserva il semplice vuoto e da lì si guarda quello che sta davanti, che potrebbe essere un bicchiere di vino o una compagnia presente insieme a te. Leggerezza, data da una tranquillità e una stabilità che plana sulle cose, come diceva Calvino e io ambisco alla leggerezza, ambisco all'elegante leggerezza che da corpo alle cose che esistono in maniera molto istintiva. Non sono tanto per le costrizioni sinceramente, tutto ciò che è costrizione, possessione, ossessione, razionalizzazione, è sinonimo di peso. La vostra famiglia dove io lavoro mi occupo per lo più di scultura, mentre di là appunto di pittura ed è anche bello sapere di poter avere due spazi dove fare una cosa e un'altra.